Allora, ci sono alcuni imprenditori che sono già parecchio dentro il mondo delle criptovalute, altri che invece stanno bene alla larga. Un motivo per cui stavano alla larga dal mondo delle criptovalute era, forse non la cosa più importante, ma tra gli altri motivi c'era il fatto che le criptovalute fondamentalmente a livello fiscale non erano normate, se non c'era alcuna legge riguardante la definizione precisa di come le criptovalute dovevano essere tassate, si andava ad interpretazioni più o meno corrette. Ecco, quest'anno, nel 2023, abbiamo per la prima volta il legislatore che ha deciso di intervenire sul tema in maniera confusa, in maniera criticabile, però è intervenuto sul tema. Ed in questo video io ti voglio parlare, dare qualche spunto su quello che cambia nella tassazione in capo ai soggetti commerciali, cioè in capo alle società che decidono di acquistare delle criptovalute. Se l'argomento è di tuo interesse, segui questo video. Prima di proseguire, però, voglio farti un invito. Ti invito, caro imprenditore, se sei un imprenditore, ad andare sul mio nuovo sito, sulla mia nuova pagina, farofiscale.com, nella quale presento un progetto che potrebbe essere di tuo interesse. L'ho lanciato qualche mese fa, sto seguendo i primi imprenditori in quel progetto, vai a vedere se può essere anche di tuo interesse, farofiscale.com. Bene, torniamo alle criptovalute. La domanda che ci si può porne è che alcuni clienti mi hanno già posto negli anni scorsi, è questa. Ma se una società, mettiamo una SRL, acquisisce delle criptovalute, come funziona la tassazione delle criptovalute nell'ambito della società? Ovvero, cosa succede se le vendo, realizzo plus o minus valenze? Che cosa succede se io a fine anno non le ho ancora vendute, quindi ce le ho nel bilancio? Magari comprate ad un certo valore, ma che hanno un valore di mercato più alto o più basso. C'è una tassazione o c'è una deduzione potenziale di queste plus valenze o minus valenze latenti? Bene, questo tema non era chiaro fino all'anno scorso, o almeno non era definito chiaramente dalla norma fiscale. L'anno scorso una volta mi è capitato che un cliente che si è trovato in questa esatta situazione, aveva necessità di avere dei wallet di criptovalute, non tanto per investimento, ma proprio perché è un cliente che lavora in un settore estremamente tecnologico, si è trovato a vendere degli NFT e quindi aveva proprio necessità, proprio professionalmente di avere a disposizione dei wallet per usi professionali, non che dovessero fare granché di investimenti, ma aveva proprio una necessità professionale di tenere dei wallet. Ne abbiamo parlato, abbiamo definito come farlo e poi gli ho detto, senti, però ti dico una cosa, giusto per tranquillità, visto che non si tratta di cifre rilevanti, togliamoci il pensiero di avere delle criptovalute al 31 dicembre del 2022, perché? Perché visto che non è chiaro se debba tassare o possa dedurre plus valenze o minus valenze latenti, facciamo che realizzare queste plus o queste minus, quelle che siano, non è un problema qui di risparmiare tasse, è un problema di fare le cose bene, ce le vendiamo poco prima della fine dell'anno, realizziamo e quando c'è un realizzo di plus o di minus è evidente che la plus è tassabile e la minus è deducibile e poi se ti servono le cripto te le ricompri all'inizio dell'anno, quindi non abbiamo il problema di valutare le criptovalute alla fine dell'anno. Questa era stata un po' la mia impostazione prudenziale per questo cliente. Bene, quest'anno è uscita una norma che invece questo problema lo risolve. Lo risolve perché è stato introdotto un comma all'articolo 110 del Tuir che dice fondamentalmente che le plus valenze e le minus valenze latenti presenti nei bilanci delle società alla fine dell'anno sono irrilevanti fiscalmente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io ho comprato delle criptovalute e tra la data di acquisto e il 31-12 dell'anno il valore è salito di parecchio o di poco, comunque è salito o diminuito, quella plus valenza o minus valenza latente potenziale non è rilevante fiscalmente. Ecco, questo dà una certa tranquillità all'imprenditore. Prima non si comprendeva bene se era così o perlomeno conoscendo la controparte dell'agenzia delle entrate capace di inventarsi qualunque cosa in serie di accertamento, comunque poteva suscitare delle paure, per questo il mio approccio prudenziale che raccontavo prima, ora però abbiamo una norma che spiega esattamente come stanno le cose, queste plus valenze o minus valenze latenti non sono rilevanti fiscalmente, non tassabili, non deducibili. Bene, allora a questo punto detenere criptovalute nell'ambito di società non comporta più questo rischio, quindi chi ha necessità di farlo, perché come per i clienti che descrivevo prima ne hanno bisogno, oppure anche perché solo nel mondo criptovalute ci credono e vogliono magari investire la liquidità in criptovalute, magari per un investimento anche a lungo termine, magari nella società commerciale, ma meglio ancora direi io nella holding per esempio, allora perché no? In già più di un'occasione mi è capitato di dover costituire holding e il cliente mi ha chiesto nell'oggetto sociale di indicare non solo che la società può fare investimenti in immobili, in quote societarie, ma può anche fare investimenti in criptovalute. Ora che abbiamo anche questa norma, questo lo si può fare con una serenità un pochino maggiore e ricordo anche che le società non compilano il quadro RW. Se quindi oggi la norma chiede alle persone fisiche di compilare il quadro RW per dare traccia degli investimenti in criptovalute, anche questo per la prima volta c'è in una legge da quest'anno, ebbene le società restano escluse dalla compilazione del quadro RW perché traccia di quello che fanno c'è evidentemente nella loro contabilità. Spero che questo video ti sia stato utile, ti rimando se non l'hai ancora fatto a visitare il mio nuovo progetto farofiscale.com e ti auguro buon lavoro.